la plastica fino a dieci anni fa avevamo tutto in casa di questo materiale piatti bicchieri posate tovaglie ma per fortuna adesso non è più così ecco forse non è proprio vero che poi il problema non è la plastica in sé per sé ma è come la smaltiamo o meglio come non la smaltiamo per esempio una bottiglia di plastica come si butta così si schiaccia per il lato l'uomo e la si getta se ricicliamo quella già esistente non dovremo produrne di nuova possiamo tutti fare la nostra parte nel riciclare noi per primi